Sviluppo e quello che serve alla Sicilia per riemergere da questo periodo nel quale è stata catapultata da una politica sbagliata, targata PD e Crocetta, lo ha detto Matteo Salvini questa mattina a Catania. Parliamo della famiglia Genovesi-Trigona, questa mattina sono intervenute a supporto della famiglia le associazioni Altra Agricoltura, Movimento Riscatto, Comitato Noaste e Donne per l'Agricoltura che hanno spiegato con carta alla mano le ragioni che porterebbero a scongiurare lo spratto. La Guardia di Finanza ha portato a termine un'importante operazione ammodica, le fiamme gialle infatti hanno sequestrato 5 mila metri quadrati di discarica abusiva. Il libero consorzio comunale di Ragusa non ci sta alla ripartizione dei fondi e diffida la regione, il commissario Cartabellotta ha chiesto di annullare o revocare il decreto affinché venga assicurata una corretta ripartizione. 16 minuti dopo le 14, benvenuti a tutti i nostri telespettatori. Lo avete ascoltato dai titoli, in apertura parliamo della visita di oggi del leader della Lega Matteo Salvini a Catania, arrivato a supporto della candidatura alla presidenza della regione siciliana Dinello Musumeci. Salvini ha parlato alla folla dicendo dobbiamo riemergere dalla realtà cui è stata catapultata l'isola siciliana dal governo Crocetta. Il servizio. 13 ore da Trapani a Ragusa per 350 km in treno. Ripercorrerà Matteo Salvini per sottolineare come in Sicilia le infrastrutture siano alla preistoria. La Sicilia può diventare come la Lombardia o il Veneto ma serve un cambio di rotta e una buona politica. A dirle appunto lo stesso Matteo Salvini questa mattina a Catania. Farò la Trapani Ragusa in treno, un'odissea di 13 ore per fare 350 km. E quindi contiamo di entrare con noi e con Salvini per la prima volta in consiglio regionale per fare un po' di pulizia. Bloccare l'immigrazione e fare politiche serie per il lavoro perché un ragazzo su due non ha lavoro. Quindi politiche serie non vuol dire assumere gli amici degli amici, quello che ha fatto il PD. Mi stupisce che un signore come Di Maio parli di osservatori internazionali per il voto in Sicilia che di solito si mandano nelle zone di guerra. Io penso che i siciliani voteranno con la testa liberamente e non hanno bisogno di tutori, di accompagnatori o di controllori. Il 50% però non andrà a votare. E noi cerchiamo di parlare anche a questo 50% che è stato deluso da tutti e da tutti. Li capisco perché tutti hanno promesso tutto. Noi vediamo di promettere poche cose ma quelle cose di mantenerle. L'agricoltura al primo posto, il lavoro al primo posto. Sull'immigrazione idee molto chiare. Non vogliamo più neanche un clandestino ospite degli alberghi siciliani. Quando dico neanche uno, dico neanche uno. Salvini attacca poi l'attuale politica e il sistema che viene applicato al governo nazionale ma anche dagli oppositori, fra tutti il Movimento 5 Stelle. Il riferimento è soprattutto alle liste non sempre pulite, alle continue inchieste che riguardano esponenti politici di qualsiasi partito. Noi offriamo ai siciliani e agli italiani onestà sicuramente, però anche concretezza e capacità di risolvere le cose. Io sostengo Musumeci come candidato presidente e la lista di noi con Salvini che è una lista pulita. Se altri per interessi e ragionamenti loro hanno fatto scelte sbagliate, sceglieranno i siciliani. Continuiamo a parlare di elezioni regionali perché questa mattina il candidato Teo Gentile a Sciclia ha presidiato il presidio sanitario dell'ospedale Busacca al centro del suo sit-in pacifico l'attuale situazione vissuta dall'ospedale Busacca. Noi lo abbiamo incontrato. Il candidato a Lars nella lista popolare ed autonomisti Teo Gentile ha scelto di chiarire il proprio punto di vista in merito a quanto sta accadendo e si sta determinando al Busacca di Scicli. Un sit-in pacifico e che ha avuto lo scopo di porre l'accento su quella che a Scicli è la priorità al momento, ovvero la sanità. Una città, Scicli, su cui non si capisce a che gioco stiano giocando le autorità, non si capisce il modus operandi dell'azienda sanitaria provinciale, una confusione che si determina ancora di più in questo delicato periodo della campagna elettorale. Così, per questi motivi, Gentile, oggi ha scelto di intervenire sulle sorti della sanità nella città. Io propongo veramente di realizzare urgentemente un comitato tecnico di controllo di presidio composto da professionisti, specialmente nel ramo del diritto amministrativo e sanitario, affinché venga controllata che la legge sia rispettata. Quindi controllo di legalità. Nessuno può chiaramente andare a sindacare se ci sono delle vere esigenze sanitari, ma se l'operazione sottende ad altro obiettivo è chiaro che la legalità deve essere rispettata. Da parte mia sono un avvocato, già faccio prontezza di poter dare la mia disponibilità e la mia competenza per comporre questo tavolo, questo presidio di controllo. C'è un'accelerazione nella procedura, si parla di chiusura del pronto soccorso, che avviene in un momento topico, in un momento particolare, il passaggio da un'amministrazione regionale a un'altra. Siamo sotto campagna elettorale, normalmente in queste fasi, per correttezza, si dovrebbe giocare a bocce ferme. Invece cosa si nota? Che si cerca di raggiungere l'obiettivo, quello della chiusura del pronto soccorso, prima che si giunga alle nuove elezioni. Sorge spontaneo un dubbio. Si vuole completare un iter che è iniziato da anni e quindi si cerca di portarlo a termine prima che lo stravolgimento, l'auspicato stravolgimento della compagine regionale possa stoppare questo iter e quindi arrivare ad altre finalità. Il problema del precariato in via di risoluzione e l'assituzione della sanità in Sicilia, al centro, ieri pomeriggio dell'incontro tra il candidato del Partito Democratico a Lars, Pippo Di Giacomo, e gli operatori del mondo sanitario. L'attivazione della nuova rete ospedaliera, passaggio da noi fatto nei mesi scorsi, ha aggiunto Di Giacomo, ci ha permesso di sbloccare i concorsi. E' chiaro infatti che vi siano ancora carenze di personale in diversi settori e il prossimo passo sarà quindi quello di attivare nuovi concorsi, ha dichiarato il candidato del Partito Democratico a Lars, Pippo Di Giacomo. Adesso cambiamo argomento e torniamo a parlare del caso dell'abitazione all'asta a Vittoria della famiglia Trigona-Ginovesi che rischia appunto lo sfratto. Questa mattina sono intervenuti a supporto della famiglia, il Movimento Altra Agricoltura, Movimento Riscatto, Comitato Noaste e Donne per l'Agricoltura che hanno spiegato con carte alla mano le ragioni che potrebbero scongiurare lo sfratto. Giada Giacquinta. Questa signora che ha acquistato questo bene immobile, che risulta disoccupata e in attesa di prima occupazione e nello stesso periodo ha acquistato altri tre immobili all'asta, io vorrei capire se questa persona ha fatto 13 al totocalcio o i soldi provengono da qualche altra parte. Noi crediamo nella giustizia, non vogliamo credere che nella giustizia ci siano delle cose che non funzionano. Stiamo solo cercando di evitare un altro caso guaracio in questa città. Le associazioni Altra Agricoltura, Movimento Riscatto, Comitato Noaste e Donne per l'Agricoltura sono intervenuti questa mattina a supporto della famiglia Genovesi. Hanno spiegato con carte alla mano le ragioni che potrebbero scongiurare lo sfratto. L'usura bancaria certificata, abbiamo un'indagine in corso perturbativa d'asta, un giudice delle esecuzioni che fissa l'Ud e la comparizione delle parti per il 22 febbraio 2018. Ora, se c'è un'udienza fissata, ferma tutto, aspettiamo cosa decide l'udienza. Una mancata intestazione di un assegno che non viene intestata la procedura. L'asta giudiziaria è l'unico luogo dove si può acquistare senza che ci sia la verifica di dove provengono i soldi. Avevamo già parlato del dramma familiare vissuto dalla famiglia che rischia lo sfratto della propria casa venduta all'asta per 38 mila euro a fronte del valore di 190 mila a una persona disoccupata e in apparenza priva di reddito. Perché ci sono molte anomalie in tutta questa procedura e vogliamo vederci chiaro. Se non ci vediamo chiaro noi non usciamo di qua. Vogliamo la certezza che dobbiamo uscire. Ora, questa mattina, dopo la visita del custode giudiziario alle 8 del mattino, si erano inizialmente barricati in casa minacciando atti inconsulti per la disperazione. In un secondo momento hanno accettato di incontrarci per pochi istanti, poco prima però che la proprietaria dell'appartamento accusasse un malore costringendo i presenti ad allertare il 118 per verificare lo stato di salute della signora, già cardiopatica. Il sistema delle aste giudiziarie, come ha dichiarato già Luco Chipinti, assessore ai servizi sociali del Comune di Vittoria, presente questa mattina per incontrare e supportare signori genovesi, purtroppo sta provocando situazioni che a Vittoria ormai sono quasi all'ordine del giorno. Come un argomento serviranno dai 9 ai 18 mesi per la riabilitazione dell'ispettore di Polizia Municipale aggredito in Via del Rotolo più di un mese fa. Trasferito a Cefalu per la riabilitazione, l'ispettore necessita di un'assistenza H24, così come racconta ai nostri microfoni il fratello Matteo, che ci dice anche il perché è stata aperta una sottoscrizione per le spese mediche. Sara Donzuso. Aggredito lo scorso 3 settembre, mentre era in servizio in Via del Rotolo, l'ispettore Licarin in questi giorni è impegnato nella fase di riabilitazione e per questo motivo da qualche settimana si trova a Cefalu. Le sue condizioni restano abbastanza serie, così come ci dice il fratello, che ci spiega anche il perché si è stata aperta una sottoscrizione per aiutare e sostenere le spese mediche. Il centro è a totale carico, quindi l'attività di cura di mio fratello è a totale carico del servizio nazionale, però l'assistenza personale è a carico nostro. Luigi è affetto da una tetra paresi e siccome è stato colpito in fronte ha un deficit cognitivo molto serio, per cui in questo momento lui riconosce la famiglia e proprio nelle ultime ore, possiamo dire anche l'ultimo giorno, abbiamo avuto notizia che lui si relaziona con i medici, cioè con i medici e il personale infermieristico. Questo vuol dire che sta facendo un passo in avanti. Luigi non ricorda nulla né di quel sabato né tantomeno di quello che faceva. Lui in questo momento non ricorda che lavoro fa, se lei glielo chiede lui guarda nel vuoto come un bambino, le dice con gli occhi ma di che cosa stai parlando, ecco questo è il problema che abbiamo. C'è speranza che siccome ricorda gli affetti familiari, questa attività potrebbe essere migliorata, questa capacità mentale, ma non sappiamo i tempi, i medici ci dicono che dovrà restare lì tra 9 mesi e 18 mesi. Sappiamo che la polizia sta indagando ancora perché cerca gli eventuali complici, anzi per noi sono i sicuri complici della persona che si è consegnata alla giustizia e noi siamo in attesa fiduciosa che queste persone vengano trovate e assicurate alla giustizia. Torniamo adesso a parlare dell'operazione Strascico perché sono stati portati a termine i quattro arresti, infatti la notte dell'operazione erano irreperibili quattro persone, tra queste pensate anche Nunzio Latorre, giocatore di calcio che militava in Serie A negli anni 90 nel Catania. Si chiude il cerchio con gli ultimi quattro arresti dell'operazione Strascico portata a termine dalla squadra mobile di Raguse e iniziata cinque giorni fa quando furono arrestate 13 persone. Devono rispondere tutti ai 17 di furti e ricettazioni a danno di aziende del settore edile. Gli arresti sono stati eseguiti alle prime luci dell'alba a Catania dopo un briefing operativo. 120 poliziotti che hanno fatto eruzione nelle case dei 17 destinatari del provvedimento di cattura emesso dalla procura di Ragusa. All'operazione hanno partecipato anche gli uomini della polizia scientifica, della squadra mobile di Catania e di Enna con i reparti prevenzione e crimine e le unità cinofile di Catania e Palermo. A finire Manetto, Razio Di Salvo, catanese, 42 anni con precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso, furto aggravato, ricettazione e rapine, associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furte e rapine si trova adesso ai domiciliari. Giovanni Grillo, catanese, 52 anni, già con precedenti per tentato omicidio, furto, ricettazione, resistenza pubblico ufficiale, evasione e stupefacenti. Nunzio Latorre, catanese, 44 anni, con precedenti per furto aggravato in concorso, ricettazione, possesso ingiustificato di grimaldelli, truffa e danneggiamento, oltre ad essere stato un ex giocatore di calcio che negli anni 90 militava nel Catania e nel Cagliari. E infine Massimo Scardaci, catanese, 44 anni, già conosciuto per porto di armi e oggetti atti ad offendere, frode nell'esercizio del commercio. Credevano di rubare indisturbati all'interno di un'abitazione rurale di contrada a Cicirello, a Dacate, senza fare i conti però con alcune pattuglie dei carabinieri della locale stazione che erano impegnate in un servizio di controllo ed hanno notato tutto. Sono stati beccati dai carabinieri che li hanno arrestati in flagranza di reato. I tre originari di Gela, dopo le formalità di rito, sono stati sottoposti alle arresti domiciliari a disposizione del sostituto procuratore Valentina Botti. Devono rispondere adesso di furto in abitazione aggravato in concorso. Ancora la cronaca in primo piano perché alle prime luci dell'alba i carabinieri di Modica hanno arrestato Antonio Maganuco di 59 anni, pregiudicato di Gela. L'uomo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale su richiesta del PM Monego per furto aggravato in concorso formale reato continuato utilizzo in debito di carta di credito e bancomat ed evasione. L'uomo, nonostante fosse agli arresti domiciliari lo scorso mese di agosto aveva rubato una borsa all'interno di un'auto parcheggiata incastrato dalle immagini di video sorveglianza adesso si trova rinchiuso all'interno del carcere di Gela. Cambiamo argomento ma restiamo sempre in territorio di Modica perché un'importante operazione è stata portata a termine dalla Guardia di Finanza infatti le fiamme gialle hanno sequestrato un terreno di circa 5.000 metri quadrati che era stato adibito a discarica abusiva un'area in cui si trovavano circa 100 tonnellate di rifiuti pericolosi. il direttore Catiuscia Carpentieri rifiuti pericolosi di ogni genere alcuni dei quali anche molto pericolosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ragusa intervenuta in un'area di oltre 5.000 metri quadrati trasformata in una vera e propria discarica abusiva la zona si trova in territorio modicano precisamente nella circonvallazione Quartarella San Giovanni Pirato l'area è stata sequestrata 3 tonnellate di amianto 110 veicoli fuori uso pari a circa 80 tonnellate parti meccaniche di autoveicoli alcune tonnellate di pneumatici dismessi macchine ed attrezzature per scavi materiale ferroso plastico e legnoso questo quanto trovato dalla Guardia di Finanza nel sito il sequestro è avvenuto con il supporto tecnico e la collaborazione di funzionari del settore ambiente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa grazie ai quali si è potuto evitare ulteriori gravi conseguenze derivanti dall'ambandono e dallo smaltimento illecito di rifiuti il proprietario del fondo nonché titolare di una ditta individuale operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi non pericolosi è stato denunciato all'autorità giudiziaria per violazione in materia ambientale inoltre deve immediatamente provvedere a bonificare l'aria e al ripristino del luogo oltre alla denuncia per il responsabile scattata alla segnalazione al comune di Modica alla regione siciliana e ai vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa per le rispettive competenze l'abbandono incontrollato di rifiuti infatti oltre a costituire un deturpamento del territorio stante la natura dei materiali stoccati può provocare una contaminazione del suolo con conseguente potenziale danno per la salute della collettività l'attività delle fiamme gialle è continua e incessante e non si esclude un'altra importante operazione a tutela dell'ambiente a proposito di discariche abusive di certo non hanno la stessa entità di quella sequestrata dalla guardia di finanza di Modica ma quelle denunciate dai residenti di Cavadaliga sono diverse infatti occhi puntati su via Tolstoi dove c'è una discarica a cielo aperto a ridosso dei cassonetti dell'immondizia chiedono interventi residenti non solo per queste discariche ma anche per le strade in quanto a seguito del maltempo delle scorse settimane molte strade della frazione riverasca ciclitana si presentano in sabbia strade ricoperte di sabbia alcune non pavimentate bene e discariche qua e là e quanto si sta determinando da tempo a Cavadaliga frazione riverasca del comune di Scicli dopo il maltempo delle scorse settimane molte vie della parte bassa della frazione quindi a poche centinaia di metri dalla spiaggia sono state ricoperte dalla sabbia che è stata trascinata dall'acqua dalla parte alta della cittadina inutile sottolineare come la presenza della sabbia sia realmente pericolosa per gli automobilisti e i residenti che ogni giorno transitano da quelle arterie l'appello dunque all'amministrazione Giannone a cui si chiede di ripulire quelle strade in modo tale da riportare nel centro abitato tutti i parametri di sicurezza spostandoci però dalla parte bassa alla parte alta di Cavadaliga e più precisamente nella popolosa via Tolstoi non c'è la sabbia per strada ma la spazzatura lo state vedendo dalle immagini registrate questa mattina pezzi di ceramica mattoni cemento scarti di lavoro d'edilizia e rifiuti di ogni tipo dietro il cassonetto della raccolta del vetro addirittura cumuli e cumuli di bottiglie lasciate lì ora a parte che quella discarica sorge lì da mesi ed ha goduto dell'indifferenza degli addetti ai lavori quello che lascia l'amaro è l'inciviltà della gente perché è vero che il comune così come dicono a telecamere spente i passanti non ha ripulito ma qualcuno lì illecitamente ha sporcato infischiandosene della collettività l'ennesimo appello dunque all'amministrazione Giannone affinché probeda celermente a ripristinare le condizioni di decoro che una volta vigevano sull'arteria contattato da noi telefonicamente il sindaco della città Enzo Giannone non ha risposto in quanto fanno sapere impegnato in vertici sono quasi scattate le 14 e 35 minuti noi ci fermiamo c'è la pausa pubblicitaria ma torniamo subito dopo per parlarvi tra l'altro dei fondi dell'ex provincia di Ragusa perché l'ente di Viale del Fante ha diffidato la regione siciliana ma resteremo proprio in Viale del Fante in Viale del Fante a Ragusa perché è lì che si attendono risposte in merito alla strada provinciale 65 conosciuta da tutti come la Litorania che collega le frazioni rivierasche e le borgate ciclitane e modicane alle città perché lì sono diversi i disservizi segnalati dagli automobilisti ci vediamo subito dopo la pubblicità vi aspettiamo 38 minuti dopo le 14 siamo tornati in diretta con la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo come avevamo anticipato prima della pausa pubblicitaria con il Libero Consorzio Comunale di Ragusa perché ha diffidato la regione in riferimento alla ripartizione dei fondi particolari in questo servizio Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha diffidato la regione per il decreto di ripartizione del fondo di 25 milioni di euro in una nota dell'ex provincia regionale di Ragusa si legge che il decreto è dunque giudicato errato e gravemente lesivo della capacità finanziaria dell'ente mortificato e discriminato nell'assegnazione delle risorse necessarie per garantire lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge regionale di istituzione dei liberi consorsi Il commissario dell'ex provincia Dario Cartabellotta ha dunque diffidato la regione siciliana a procedere all'immediato annullamento o revoca del decreto per assicurare una corretta ripartizione dei fondi secondo quanto stabilito nella riunione della conferenza regioni e autonomie locali dello scorso 20 settembre In quell'occasione fu stabilito di applicare i quattro criteri relativi alla popolazione alla superficie alla lunghezza delle strade e al numero delle sezioni delle scuole provinciali soltanto per il riparto dei 25 milioni di euro e non per i complessivi 91 milioni e 50 mila euro in quanto l'importo di 65 milioni è destinato a neutralizzare l'incremento per il corrente anno del contributo alla finanza pubblica così come è stato deliberato dalla conferenza dello scorso 28 giugno quest'ultima somma si legge nella diffida è stata determinata sulla base della sommatoria dell'incremento del contributo a carico di ciascuno delle nove ex province siciliane e non concorre a garantire il finanziamento dei liberi consorsi comunali e delle città metropolitane inoltre non può essere ripartita secondo la quota di contributo alla finanza pubblica effettivamente a carico di ogni ex provincia dunque i quattro criteri individuati dall'assessorato alle autonomie locali non possono riguardare anche l'importo dei 65 milioni di euro perché non corrisponde al rispettivo incremento del contributo alla finanza pubblica infatti dei 65 milioni di euro all'ex provincia di Ragusa viene attribuita una somma inferiore a quella che è il proprio incremento di contributo alla finanza pubblica mentre altri enti con lo stesso titolo si vedono assegnate quote superiori al loro carico ci sono enti conclude la nota del commissario Cartabellotta che concorrono in misura inferiore rispetto all'ex provincia di Ragusa e si vedono invece assegnare una somma ben maggiore rispetto all'ente di Viale Delfante restiamo all'ente di Viale Delfante perché è da lì che arriveranno sicuramente nei prossimi giorni delle rassicurazioni o delle risposte in merito alle segnalazioni degli automobilisti alla nostra redazione dove denunciano che la strada provinciale 65 ovvero la litoranea quella strada che collega ad esempio Marina di Modica a Donna Lucata e viceversa quella strada è ormai avvolta dalla vegetazione guardate le difficoltà del libero consorzio comunale di Ragusa si conoscono un ente che prima era punto di riferimento e che ora cerca con tanti sforzi di garantire i servizi ma spesso rattoppare tutto è difficile non ci si arriva e spesso accade ciò che si sta determinando lungo alcune strade provinciali ecco lo vedete la provinciale che collega le frazioni rivierasche come ad esempio il tratto tra Marina di Modica e San Pieri o la zona Costa di Carro Punta Corvo ma anche prima del curvone di Cavadaliga come anche il rettilineo di Donna Lucata sono oramai invasi da canneti rami di alberi di terreni confinanti sterpaie e vegetazione che oltre a privare di buona parte della strada limitano concretamente la visibilità una strada trafficata è di vitale importanza questa provinciale per il collegamento delle borgate alle città che adesso però si presenta con i margini di sicurezza fortemente compromessi il pensiero va anche all'incendio o agli incendi che quest'estate hanno messo a dura prova le forze dell'ordine le numerose sterpaie che si trovano a ridosso quasi delle corsie destinate al transito potrebbero prendere fuoco in effetti un episodio di questo genere si è verificato in estate quando le sterpaie del tratto di strada di contrada costa di carro tra san pieri e cavadaliga hanno preso fuoco in quell'occasione le fiamme divorarono macchia mediterranea limitrofa alla spiaggetta poco distante da san pieri più sicurezza più interventi in quella strada questo chiedono gli automobilisti al libero consorzio comunale di ragusa interventi necessari per garantire l'incolumità pubblica è stato riconfermato Giovanni Brancati segretario territoriale per i prossimi quattro anni della CNA Ragusa durante la riunione della direzione il presidente regionale Battiato si è detto entusiasta della presenza di numerosi piccoli e medi imprenditori dell'area Iblea che rappresentano il nerbo portante dello sviluppo e della crescita di questo territorio per il segretario regionale Giglione la scommessa è quella di garantire risposte di segno positivo a tutto il sistema territoriale delle piccole e medie imprese è stato inaugurato l'anno accademico per la banda Belloardo Risadelli di Modica Suona con noi è l'evento di inaugurazione dell'anno accademico della scuola musicale della banda città di Modica Belloardo Risadelli che si è svolto nel pomeriggio di sabato scorso presso l'auditorium San Francesco di Modica durante la serata inaugurale tante le sorprese dai cenni storici della banda magistralmente introdotti dallo studioso Carmelo Cataldi all'intitolazione della scuola alla memoria di Peppino Galfo personaggio modicano scomparso di recente da sempre legato alla musica e primo sostenitore della scuola musicale che adesso ne porta il nome fino all'intervista a Gianluca Cataldi presidente della banda Belloardo Risadelli che ha raccontato la genesi della scuola quando cioè due anni fa un gruppo di ex componenti modicani della storica banda della città della Contea non più esistente decise di dare vita ad una nuova formazione la banda musicale città di Modica Belloardo Risadelli intitolata all'ex capobanda Enzo Belloardo e a un componente storico del vecchio corpo bandistico Vincenzo Risadelli presenti tra gli altri nel pubblico anche il capitano della guardia di finanza Alessandro Salvatore e Carmelo Avola in rappresentanza dell'Avis quest'ultimo ha ricordato l'importanza del fare rete dell'associazionismo in città la serata è stata condotta dalla giornalista Alessandra Brafa sonori gli applausi per i 47 degli 82 allievi della scuola musicale gratuita che insieme ai componenti della banda cittadina tutti sapientemente diretti dal maestro Corrado Civello hanno regalato emozioni autentiche e vere rappresentando uno spaccato associativo con musicisti dai 6 a 70 anni che hanno suonato assieme se suonare un'arte suonare uno strumento e farlo per la propria città diventa un'esperienza culturale ed educativa come nessun'altra ancora più emozionante ha concluso così il maestro Civello nel ringraziare il caroloso pubblico intervenuto anticipando sogni e progetti per il futuro 46 minuti dopo le 14 termina qui questa edizione del nostro telegiornale grazie come sempre per averci scelto vi ricordo che la prossima edizione di MTG sarà alle 16.30 poi alle 20.30 grazie per averci scelto ancora e buon proseguimento su Video Mediterraneo Grazie a tutti